Cristiana, che oggi mi ha arricchito e mi ha portato a concepire come la dimensione del fare, dell'agire, fosse necessaria. Cioè fosse necessario far sì che quella che era la testimonianza attraverso le parole, attraverso la scrittura, dovesse tradursi con la testimonianza attraverso le ombre. Ci sono altre domande? Buonasera, intanto grazie per questa buona professione, anche sottolineata dall'interno della professione. Io vorrei partecipare a dare un contributo questa serata dicendo queste cose. Il cristianesimo nasce da due movimenti, da due monti apparentemente contrastanti, paradossali. D'altra parte tutto il cristianesimo è fondato su un paradossal. Quali sono questi movimenti? Nasce da un movimento da un alto verso il basso, che è l'incarnazione. E poi si conclude con un movimento da un basso verso il basso, che si conclude, si conclude, che è l'aspirazione di Cristo, che è il fondamento a voi dei cristianesimi. Quindi questa è una religione bellissima, che comprende l'uomo nella sua totalità. Nella sua totalità di animalità, di terra, di umiltà, ma anche di deità, di divinità. E però bisogna poterlo presente dell'uomo totale, e quindi dell'uomo vege, che è sempre in apporto. Anche nella conversione, la stessa parola, conversione, ci richiama a due presenze. Alto è una versione, è un voce. La conversione invece implica storicamente la presenza di due persone. È un duro alto. Quindi c'è la presenza di Dio. Ma l'uomo vecchio può essere sconvolgente, perché dobbiamo sempre fare incontro a questo obiettivo. Ad ogni modo, o domande anche questa, lei, il suo impegno, la sua conversione, si richiama anche a questo impegno politico. Ecco, questo, in un pochi modo, richiama un'antica, bella, utile, formazione islamica, per la quale, dall'Islam, almeno quello, credo, più fondamentalista, che credo sia la parte scivita, subita, il quale invita ad abbracciare l'altra politica, come a dire che religione e politica, poi, alla fine possono convivere. Questa è una caratteristica, credo, del mondo islamico. Non sono stato certamente ispirato dal pensiero scivita nella mia scelta di impegno della politica, ho ricordato, invece, l'appello di Maledetto XVI, reiterato, fatto proprio anche nella conferenza episcopale italiana, ma testimoniato anche dalla vita di Gesù Cristo, la vita terrena di Gesù Cristo, che non si è limitato a predicare, non si è limitato a dare l'esempio, ma si è limitato a operare, ma si è impegnato a avvicinarci alla verità attraverso le opere. Dove l'impegno nella politica, Paolo VI lo definì come la più alta forma di carità cristiana, ed ha considerarsi oggi come una missione per far sì che la politica risponda autenticamente al servizio della collettività. La politica metta al centro la persona come depositaria di pari dignità e di pari libertà, persegua il bene comune. Quindi questo è l'impegno della politica che ha una sua piena legittimazione all'interno del cristianesimo ed è questo quello che ha ispirato il mio percorso. Prego, a dare una domanda successiva. Io sono Don Massimo, un altro parco di Tiziano. Una domanda molto semplice e concreta. come vi chiedo soprattutto un consiglio per tutti quei cristiani in questa Europa che si ritengono buoni cristiani, cattolici, anche praticati. Non so se posso darmi anche a dire tu. Tu sei passato, hai lasciato un libro e hai sposato una persona. La nostra fede, la nostra religione non è la regione del libro. È una regione di una persona, in carna e rossa. Si chiama Gesù, è nato, è morto e per chi crede è anche a risolvere. Ma comunque il nato è morto e ha testimoniato quello che tu hai detto bene, l'amore. Ora, per chi ha accorto nella sua vita Gesù Cristo? Io non so come tu non fai a scandalizzarti perché un musulmano che si fa cristiano è come un martire dei primi tempi, no? Che va incontro alla morte. Come non fai a scandalizzarti a volte quando davanti alla realtà di uno che professa la sua fede in Cristo poi ha tanta difficoltà visto che sei nel mondo della politica a testimoniare Cristo lì dove si trova c'è la coerenza con quello che si è più che con quello che si fa. Come si può consigliare cosa si deve dire ad uno che come te svolge il suo servizio perché poi se il servizio si parla nella politica che se tu ti ritieni cristiana è perché hai sposato una persona non un'ideologia una filosofia un libro e nel momento in cui non sei più coerente con quei valori oggettivi che sono insidi nella fede cristiana ecco perché non è solo di Islam politica e fede cristiana possono andare separati se no dovremo qua fare tutta un'altra 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 cosa si intende per polis e politica e così via no? Se io sono cristiano come posso dire sono cristiano solo in chiesa o solo nella mia famiglia io sono cristiano per quello che sono il mio DNA ho sposato una persona e se tradisco il mio essere cristiano non tradisco una filosofia o un ideologia o un modo di pensare di vedere la vita tradisco una persona forse tutti fatto questo passaggio puoi farci capire meglio che significa passare da una filosofia o una ideologia o un libro ad una persona concreta grazie grazie a te Don Tommaso ma oggi noi viviamo una metoda di grande fragilità di grande precarietà anche di grandi contraddizioni che culminano in atteggiamenti lesibili nei nostri stessi confronti questa è ad esempio un'Europa che ci giunge di togliere i progettissimi dalle audioscolate e a fronte e a fronte di quella sentenza emessa dalla Corte per i diritti dell'uomo del Consiglio dell'Europa c'è stato un silenzio assordante da parte dei governi europei ma al tempo stesso è un'Europa che si appassiona che si impervora che vuole la proliferazione dei minareti e nel momento in cui come è accaduto in Svizzera a seguito dell'esercizio dell'istituto democratico del referendum la maggioranza del popolo elvetico ha chiesto imporre un argile alla proliferazione dei minareti tutti si sono scandalizzati sono intervenuti per condannare l'esito di quel referendum ritenendo che se smette un'argile alla proliferazione dei minareti è come venir meno a un quadro che dovrebbe essere il nostro DNA dove però questo stesso impulso di salvaguardia della libertà religiosa non c'è quanto viene violata la libertà religiosa dei cristiani oggi i cristiani purtroppo sono quelli che pagano il prezzo più alto che non c'è